Ciao carissimi e bentornati sul mio canale e in questa video lezione parleremo riguardo il condizionale e la gentilezza italiana. Prima di tutto, attenzione! Se non sei ancora iscritto qui sul canale, ti faccio l'invito ad iscriverti immediatamente. Perché? Perché così avrai la possibilità di ricevere ogni settimana del contenuto gratuito riguardo lo studio della lingua italiana, ok? Se questo video ti è piaciuto, ti indico di darmi un pollice in su e ovviamente di condividerlo con la gente che studia italiano come te, va bene? Quindi adesso andiamo alla nostra lezione riguardo il condizionale. Bea, perché hai detto condizionale e la gentilezza italiana? Come sapete molto bene, ragazzi, in Italia è essenziale che uno usi la gentilezza e le sue maniere per poter comunicarsi in Italia. Perché loro ci tengono molto a questo, in poche parole danno molto valore alla gentilezza. Quindi dare del lei, che è il pronome di trattamento formale e sicuramente usare tanto questo tempo verbale nel momento di ordinare, di chiedere una determinata cosa in Italia, va bene? Quindi questo tempo verbale, il condizionale, può essere utilizzato in alcune maniere. Per esempio si può usare nel caso di una cortesia, della gentilezza che ti stavo dicendo. Se vuoi ordinare una cosa, è interessante che tu faccia questa ordine con il condizionale. Se invece parli di una possibilità che non è esattamente reale, dovresti anche usare il condizionale. L'ho appena usato in questa frase, hai visto? E se invece vuoi usare come idea di desiderio, come sarebbe bello essere in Italia, in questo momento devi usare il condizionale come ho appena fatto, ok? Ricordati però che questo tempo verbale si divide in due. Noi abbiamo il condizionale semplice e invece quello composto. Il semplice si usa soprattutto al presente. Il composto invece si usa soprattutto al passato e in altri momenti come periodi ipotetici e così via. Ma non ti preoccupare che quello lo vedremo in un altro momento, giusto? Quindi in questa famosa frase che si usa tanto in Italia, attenzione che c'è un verbo al condizionale che è il verbo volere. Ti ricordi che cosa significa volere? Se non te lo ricordi, ti consiglio di andare subito a guardare come si forma e come si usano i verbi irregolari, ok? Guardalo subito e dopo torna qua. Ma la frase dice vorrei del pane, per favore. Immagina che sei in Italia e che ti sei trovato un bel ristorantino proprio di fronte a quella bella piazza, piazza Navona a Roma per esempio, ti siedi e così ordini al cameriere. Cameriere, vorrei del pane, per favore, sempre importante ringraziare ragazzi. Quindi vorrei non è uguale che dire voglio, voglio del pane. Cioè se io dico voglio del pane, ragazzi, sarà una cosa molto diretta e un po' scortese, un po' maleducato. Quindi in questo caso stiamo di fronte ad un verbo irregolare coniugato al condizionale. Quindi questo è un esempio classico, va bene? Quindi vediamo qua un esempio di verbo che finisce in are coniugato al condizionale semplice. Vediamo un po'. Prima di tutto ricordati che se è regolare bisogna prendere il radicale e ripeterlo in tutto il verbo, ok? Quindi studi sarà il radicale del verbo studiare, giusto? Adesso mettiamo le desinenze che è la parte finale del verbo che ovviamente cambierà. quindi erei la prima persona, eresti la seconda persona, erebbe la terza persona, eremmo con doppia m la prima del plurale, ereste la seconda del plurale e erebbero la terza del plurale. Vabbè, come si pronuncia veramente questo verbo? Andiamo alla pronuncia. Studierei, studieresti, studierebbe, studieremmo, studiereste e studierebbero, ok? Questa è una grande parola sicuramente, però molto semplice se la ripeti ogni volta di più, ok? Quindi in poche parole ragazzi, questo è un tempo semplice perché non ha tante variazioni. Ad esempio se il verbo finisce in aree la desinenza sarà così, se finisce in ere sarà esattamente così, se però finisce in ire non finirà esattamente, però ci sarà un piccolo cambiamento. Invece di erei sarà irei, iresti, irebbe, iremmo, ireste e irebbero, ok? Ad esempio dormire, dormirei invece di dormerei, va bene? Fantastico! Questo tempo però ci fa pensare molto al futuro semplice, te lo ricordi il futuro semplice? Ecco è molto simile al condizionale semplice. Ho fatto qui un esempio con il verbo amare, amare, radicale am, lo ripeto a lungo di tutto il verbo e adesso posso vedere come funziona la coniugazione. Quindi riguardo il futuro semplice erò, erai, era, eremo con una m, erete, eranno, ok? Adesso fai attenzione alla desinenza del condizionale, erei, eresti, irebbe, iremmo con doppia m, ereste e irebbero. Quindi se noti sono desinenze molto simili. Oh mamma mia, come faccio questo adesso? Come farò per non confondere uno con l'altro? La pratica ragazzi, la miglior maniera di non confondere un tempo con l'altro è praticandoli, ovviamente, ok? Quindi invece di dire amerò, amerò andare in Italia l'anno prossimo. Quindi io amerò è diverso da dire amerei, amerei andare in Italia se fosse possibile, ad esempio, ok? Quindi praticarli, pronunciarli, usarli nelle tue conversazioni per poterli veramente consolidarli, perché questo è il nostro obiettivo, va bene? Quindi io spero che tu abbia capito meglio come funziona il condizionale semplice, spero che questa lezione ti sia piaciuta, se hai avuto qualsiasi dubbio fammelo sapere qui nei commenti che sarò contentissima di risponderti e ci vediamo ovviamente alla prossima e arrivederci!